Apparentemente sembra che non ci siano grossi problemi di natura sanitaria, naturalmente c'è uno screening sanitario in corso per cui sarà possibile trarre un bilancio più tardi. Le informazioni che provenivano dai colleghi che sono stati a bordo della nave per tutta la notte erano delle informazioni tutto sommato confortanti, preoccupanti. Da dove è partita l'imbarcazione? Non lo sappiamo, sono cose che vanno accertate successivamente, ci saranno anche delle inchieste delle attività di indagine. Un'imbarcazione senza guida è un'imbarcazione che è esposta immaginerete al pericolo, ma anche al pericolo di impattare violentemente con la costa. Dal primo approccio che hanno avuto anche i suoi uomini sulla nave, si è capito come si sono allontanati gli scafisti oppure… Non è detto che si siano allontanati, non è detto che si siano allontanati, potrebbero essere confusi tra i migranti. Grazie Italia, grazie, grazie molto! E almeno cinque giorni li hanno trascorsi senza mangiare, senza elettricità, dicendo appunto che il viaggio è stato veramente molto duro. Sono sicuramente molto debilitati, sentono molto freddo e per il resto non ho notato granché, ma lo sbarco sta avvenendo ora, quindi ne sono scesi pochi ancora. Le condizioni sono stanchi, infreddoliti, impauriti, alcuni di loro appena sono scesi a terra hanno baciato proprio il suolo perché erano veramente molto impauriti. Ci hanno detto semplicemente che dopo una settimana circa, quando sono partiti, sono stati abbandonati dai trafficanti che hanno lasciato un numero sulla cabina e sono andati via. una mattina si sono svegliati e non c'era più nessuno, almeno per ora hanno raccontato così. Uno di loro ci diceva che era di Aleppo, Aleppo quasi del tutto distrutta, guerra, un inverno rigidissimo, persecuzioni, cioè non avevano alcuna possibilità, violenza continua, non avevano possibilità diciamo di avere un futuro lì e quindi hanno deciso di cercare altrove in Europa. Disa buona rapport? In Italia, in Europa. In Italia, no? In Italia, no? In Italia? In Italia? In Italia, no? In Italia, no? In Italia, Are you happy? In Italia, in Italia? In Italia, in Italia. In Italia. Where are the people? In Italia, homes? I said, Dammar, homes in Syria. In Italia, good. Thank you, Italia.